Tablet, smartphone, televisori, pc, elettrodomestici di ultima generazione e tutto quanto aglieta i sogni dei maniaci dell'elettronica. Apre al pubblico venerdì 2 settembre a Berlino la 51esima edizione di una delle fiere internazionale dedicata all'elettronica di consumo più prestigiose del mondo, l'IFA 2011. Una fiera che batte nuovi record, dice il direttore dopo quelli battuti negli anni scorsi. Per l'edizione del 2011 non abbiamo mai avuto tanti espositori, 1440, mille dei quali provengono da paesi stranieri. Un'occasione che Sony non poteva lasciarsi scappare per presentare i nuovi tablet che saranno venduti dal prossimo 17 settembre in Giappone. Tra un attimo, dice l'ambientatore delegato di Sony, vi sveleremo di cosa siamo capaci per portare ancora più in alto il concetto di tablet. È la prova che non conta chi è stato il primo, ma chi lo fa meglio. Il mercato dei tablet in Giappone dovrebbe raggiungere quest'anno i 2 milioni di pezzi, con margini per un'ulteriore crescita a 3,2 milioni di unità nell'esercizio seguente. Grazie. Grazie. Grazie.